consapevolezze su zoe allora sta migliorando molto per quanto concerne la predazione qui la rivediamo in quel posto non so se ricordate dove la portai che c'erano stati cinghiali e la vediamo molto più collegata ovviamente la cagnolina e ancora non è pronta ma sta prendendo una consapevolezza innanzitutto di quello che non vogliamo che faccia che va a cozzare con la canalizzazione sul tartuco cosa molto importante che non si risloga più cioè cinghiali ieri sera qui ci sono ristati e oggi si sta comportando magnificamente per quanto riguarda il collegamento ovvio che questo è un percorso che sarà abbastanza lungo per arrivare a un risultato normale però queste risposte come avevamo già visto da quello che ha fatto l'altro giorno in presenza degli animali ci fanno capire che la predazione inizia a gestirla bene e come vediamo l'effetto l'abbiamo sul distacco perché resta